La ASLI Teramo ha presentato la nuova campagna di screening rivolta alla popolazione maschile e femminile tra i 50 e i 69 anni relativa alla diagnosi precoce e la prevenzione del tumore al colon retto questo tramite un test semplicissimo in dolore senza impegnativa del medico che viene eseguito direttamente da casa tramite un kit per il prelievo volto alla ricerca del sangue occulto nelle feci Abbiamo avuto un incontro con poste e hanno prospettato questo tipo di soluzione per agevolare il cittadino nella preparazione del kit da ricevere perché prima arrivava la lettera, il cittadino andava alla farmacia la farmacia aveva il kit, tornava a casa e dopo doveva tornare in farmacia invece in questo modo abbiamo tolto molti passaggi innanzitutto c'è un maggior informativa per il cittadino il cittadino è a conoscenza già di tutte le fasi che dovrà fare per poter beneficiare di questo servizio fondamentale per la tutela della salute quindi a casa riceverà questo kit con tutte le istruzioni una volta, grazie a poste appunto dopodiché noi porteremo, loro porteranno il kit una volta ad impiuto tutti, fatte tutte le attività che devono fare che sono ben specificate e istruite si porteranno il kit alla farmacia e la farmacia li conseglierà al nostro laboratorio con tutta una serie di accorgimenti per la privacy per l'abbinamento di provette con i nominativi in maniera tale di rendere, di snellire la procedura la ASL ha dato il via con il gruppo Posti Italiani un programma sperimentale della durata di sei mesi avviato il mese scorso che coinvolgerà per ora 25.000 cittadini l'amministrazione aveva intenzione di mettere in campo un'azione forte un'azione forte sull'attività di prevenzione e il contributo di Posti è stato quello di mettere a disposizione di questa amministrazione tutto quello che è il suo know-how e tutte quelle che sono le disponibilità dei propri servizi per cercare di conciliare quelli che sono servizi tecnologici servizi professionali servizi anche di persone che poi svolgono attività di recapito a favore di questa amministrazione per raggiungere l'obiettivo che era quello di prevenzione su questo tema noi lavoriamo da anni con tutte le ASL su tutto il territorio ma abbiamo colto la sfida di questa amministrazione di voler fare un passo in più un passo un po' più deciso su quelli che erano da un lato gli investimenti necessari per capire cosa e come poteva perfezionare questo tipo di servizio e soprattutto l'interesse comune di raggiungere il risultato una redemption di accoglienza da parte dei cittadini sul test di prevenzione perché questo è l'elemento sostanziale della sfida che abbiamo colto insieme grazie 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 grazie